Zoffe, Gentile, Caprini, Oriali, Collovati, Scirea, Costi, Bardelli, Rossi, Antognoni e Graziani. Ci sono tanti modi per raccontare una storia. Manca poco più di un mese la spedizione in Spagna. Tutti ci davano perdenti. Però la convinzione di potersela giocare c'era. Mi chiamavano l'armata Braccazzotto. In Italia ci sono 50 milioni di commissari tecnici. Quanti sono con lei? Invece quando era una famiglia. Un gruppo saldo che si è stretto come un pugno. Pronti! Pronti! Ma siamo pronti. Pronti sempre. 90 minuti dove diventa una guerra contro l'avversario. E sono tre! E sono tre! Cazioni del mondo! Cazioni del mondo! Cazioni del mondo!